Per la terza volta nel giro di pochi anni, l'ultimo arresto risale al dicembre del 2015, gli agenti del compartimento Polizia Stradale Piemonte-Valle d'Aosta di Torino hanno arrestato alcuni cittadini nordafricani dediti al furto di autovetture di alta gamma. Le auto rubate venivano poi cedute ad altri connazionali e gravitanti nell'Interland torinese e in i quali provvedevano a smontarle completamente, alimentando il mercato nero dei pezzi di ricambio. La tecnica usata per i furti era sempre la stessa, a Cuneo e a Torino. I furti venivano consumati ai danni di autosaloni, concessionarie, autofficine meccaniche e autorimesse, ove i malfattori, introducendosi con l'inganno simulando di esserli interessati all'acquisto di una vettura o fingendo di chiedere informazioni, trafugavano dapprima le chiavi riposte in apposite bacheche e successivamente rupavano le autovetture parcheggiate o all'interno dell'esercizio o poco distante sulla pubblica via. Le autovetture poi venivano trasportate da alcuni galoppini a Milano o a Torino, ove i luoghi isolati o capannoni smessi, altre persone provvedevano a smontarle. I primi tre arresti sono stati eseguiti a fine gennaio 2019, in Torino, strada del Portone, ove all'interno di un'autodemolizione abusiva sono stati sorpresi un italiano di 52 anni e due indigeriani intenti a smontare una Jeep Grand Ciruc del valore commerciale di circa 70.000 euro, nuova, ancora da immatricolare, risultata rubata pochi giorni prima a Cuneo, ai danni di una concessionaria. Altre quattro misure cautelari in carcere sono state eseguite a Torino e a Monza tra il 16 e il 17 giugno 2019, mentre l'ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei primi giorni di luglio, ove il principale artefice, uno straniero di tenenza di 9 anni, aveva trovato rifugio presso il suo connazionale per sfuggire alla cattura. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Jeep e del Tribunale di Ivrea e poi dal Jeep e del Tribunale di Cuneo, con accuso il fascicolo per competenza territoriale relativamente a 16 capi di imputazione riguardanti il furto e o alla ricettazione di 10 autovetture del valore commerciale di circa 400.000 euro.